Buon Dio a tutti quanti voi ragazzi e bentornati sul mio canale Allora, ho diverse cose da dirvi, alcuni ragionamenti da fare Mercato bloccato, chissà perché, ma non solo quello della Juve, anche quello delle altre Quindi parleremo anche di altri dati E infine qualche notizia di mercato che ieri è uscita in tarda serata con Gianluca Di Marzio Quindi, sedetevi comodi, bevete il caffettino Oppure se siete in viaggio, cuffiette e vi farò accompagnare nel vostro tragitto mentre andate a lavoro Prima di iniziare però ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi Mi raccomando perché con l'iscrizione, bene o male, il video vi appare nella home Altrimenti vi perdete nei meandri qualsiasi cosa Cioè, ci sono una marea di contenuti su Youtube per cui è complicato L'iscrizione è importante perché ogni qual volta esce un video, boom Voi aprite l'app di Youtube e ve lo ritrovate comunque nella home Quindi, già questo conta Se volete anche la notifica c'è la campanella Per rimanere aggiornati E se avete la possibilità di commentare, se state guidando non fatelo Però mi raccomando, sono curioso un po' di sapere la vostra opinione Vi sto vedendo molto partecipi in questo momento di difficoltà E della cosa più bella Quindi mi fa strapiacere Poi se volete rimanere aggiornati sul pezzo App che sponsorizza il canale, OneFootball Trovate il link in descrizione E la migliore app per rimanere sempre sul pezzo Aggiornati sul calcio, ragazzi E in questo periodo poi tra sentenze, novità, calcio o mercato Qualche notizio è uscita oggi Ecco, però OneFootball l'ha riportata alla grande Allora, iniziamo subito Il dato, ragazzi, è inequivocabile Allora, ci sono stati pochissimi movimenti di mercato Rispetto ad altre passate sessioni di mercato Ora si parla sì di Zaniola al Milan Che potrebbe essere una cosa che si fa a giugno Però un mercato in entrata A parte il Napoli che ha preso Berezinski A parte qualche altra operazione secondaria Non c'è stato granché movimento In mezzo alla Serie A Non ci sono state squadre che hanno ricorso Alla sessione di mercato di riparazione Per prendere dei giocatori immediatamente C'è poca roba rispetto agli anni scorsi Mi pare che finora siano stati spesi 16-17 milioni di euro Mentre l'anno scorso Che è il colpo Vlaovic Che fa una fetta grossa Però siamo attorno ai 185 milioni di euro circa Quindi capite che c'è Una differenza enorme del denaro investito L'anno scorso nella sessione di mercato Invernale rispetto a quest'anno A mio parere c'è qualche spauracchio Da parte di tante società Nel senso che c'è Meglio non facciamo operazioni Non ci facciamo osservare Cerchiamo di tenere botta A limite qualche operazione minore Qualche giocatori di piccola taglia Dal punto di vista economico Ma niente di più e niente di meno A parte il Milan ripeto che potrebbe prendere Zaniolo Ma risulterebbe comunque un'operazione Abbastanza low cost Rispetto a quelle che si pensava Già quest'estate Perché la Roma la voleva accedere A 70-80 Sparavano delle cifre esorbitanti Si potrebbe chiudere a 30 Circa ecco Questa potrebbe essere una cifra di riferimento Giusto per comprendere un po' Come si è ridimensionato anche il mercato in Italia Rispetto alla Premier Che ha speso tantissimo Di più tipo 10 volte 30 volte Quel che è stato speso in Italia C'è una disparità enorme Ma il punto è questo I presidenti I direttori sportivi Sono molto attenti In questo momento A far uscire denaro Con questa situazione Legata alle plusvalenze in atto L'unica plusvalenza Che è stata fatta di rilievo Lo Spezia Che ha venduto Kivior All'Arsenal Per una cifra vicina 25 milioni Però Nient'altro Di importante Sapeva che comunque Kivior Anche dopo il mondiale Aveva gli occhi addosso Di diverse squadre L'Arsenal È stato il più veloce A prenderlo Ad accapparrarselo Dando un'offerta Cioè Dando Insomma Dei denari importanti Per una squadra Come lo Spezia Che rischia Con quei soldi Di pagarsi quasi Quasi tutto il monte In gaggi E probabilmente Ne resta anche Nelle tasche del presidente Con una plusvalenza Direi abbastanza importante Però Ecco Questi sono i movimenti Cioè C'è stata veramente Pocca roba di rilievo Non è stata Una sessione entusiasmante Perché Secondo me Hanno tutti paura Di finire Nell'occhio del ciclone Lasciatemela dire Sta cosa O Di avere gli occhi puntati In questo momento Dove Veramente Viene C'è un clima Quasi di paura Nell'investire Eccetera Perché si ha paura Poi che ci siano Dei controlli Poi Adietro Di quel che è stato fatto In passato In termini di Cessioni Eccetera E questa è la mia sensazione A tal proposito Ragazzi Vi dico La Juventus Però potrebbe Fare una cessione Importante Che è quella Di Weston McKennie McKennie potrebbe Essere ceduto A Leeds A quanto pare Ha detto Sì A Leeds In Inghilterra Il giocatore Che potrebbe Andare via Potrebbe portare Denari Nelle tasche Della Juve Una cifra vicina Credo ai 20-25 milioni Circa La Juve Farebbe una plusvalenza Speriamo di non essere Indagati anche su questa Però la Juventus Ha intenzione Anche di investire E a quanto pare Secondo Gianluca Di Marzio La Juve Sta osservando Molto da vicino Il profilo Di Emil Holm Giocatore Dello Spezia Ragazzi Esterno destro Che può fare Il tutta fascia Anche A me ragazzi Questo ragazzo Piace Ho una crash Come la chiamano Adesso i ragazzi Giovani Per questo giocatore Un giocatore che Mi ha colpito In determinate partite E ha Un passo Veramente Straordinario Magari difensivamente Non è perfetto Però si muove bene A gamba Crossa Ha inciso Parecchio In questo Spezia E quindi Credo che possa essere Un giocatore Molto interessante A 22 anni Sarebbe un colpo Che costa poco Non è così tanto Oneroso Poi la Juve Dovrà fare delle riflessioni Se prenderlo già ora O a limite Nella sessione di giugno Io credo che Già la sessione di giugno Potrà Giugno lui Estiva Insomma Potrebbe esserci Un po' di bagarre Per accaparrarsi Questo giocatore Per cui Mi aspetto Che eventualmente La Juventus Se hai occhi addosso Su questo ragazzo Chiuda Questo discorso Quanto prima Possibile Questa è la mia opinione Tornando invece Sempre sul caso Di prima Mi sono scordato Un pezzettino E ve lo riporto Adesso Rispetto anche a Calciopoli Tanti mi dicono Mi sembra di rivivere Calciopoli No Calciopoli è diverso Perché Calciopoli C'è stata una resa Da parte della Juve In termini di difesa È stata accettata Anzi Ha patteggiato La Juve Per scelta difensiva Per me è totalmente sbagliata Tuttavia I tempi Le tempistiche Del processo sportivo Ti portano Ovviamente A fare delle scelte Affrettate Senza avere Un giusto processo È stato un processo Sommario Anche quello Però tutti si schieravano Contro la Juve Tutti i morati Tutti i presidenti Che abbia sentito Qualche dirigente Parlare Hanno tutti usato Dei termini Veramente cauti Sulla vicenda Non hanno Rincarato la dose Non hanno Detto Ah Guarda la Juve Ha vinto Gli scudetti In maniera irregolare Perché comprava Nessuno Ste voci Solamente da giornalisti Tifosi Chi gestisce le società Non ha proferito Parola su questo aspetto Nessuno Sono tutti muti E a mio parere Anche impauriti Perché ripeto L'esposizione Economica Che c'è stata In questa sessione Di mercato È veramente limitata È limitata E a mio parere C'è qualche problemino Siamo uno Di campionati europei Che ha speso meno In assoluto Questo la dice lunga Anche probabilmente Sullo spauracchio Che c'è Attorno a questa vicenda E quando vediamo Dei professionisti Dirigenti E presidenti Che non Dicono nulla Non dicono neanche Bah Anche se chiamati in causa Oppure Iniziano a terciversare Con le parole Non vanno dritti al punto Girano attorno E dribblano la domanda Ragazzi Cosa vuol dire? Significa che c'è Un po' di paura In generale Ok Io vedo Una situazione Abbastanza tesa In questo momento Molto tesa E quindi Ecco alcuni riferimenti Su questa Su questa vicenda Alcune situazioni Di mercato L'unica che si è sviluppata Al 25 Manca una settimana La chiusura Neanche Sì una settimana Una settimana esatta E quindi Se succederà qualcosa Lo sapremo in questa settimana Sarà una settimana Calda anche questa Quindi Vi farò compagnia Come al solito Voi mi raccomando Lasciate la vostra opinione sotto nei commenti Iscrivetevi al canale E sempre Fino alla fine Forza Juve ragazzi Sempre